Musica Tenente Killer pulite le zone 34, 10 e 16 mi raccomando Ok generale capobastone, ora arriva The Killer e vi fa la pelliccia Dove siete sminchiati che vi rompo la testa Che cosa, la minchia Signore, questo, merda mi hanno ferito mi servono rinforzi Non posso fare nulla mi stanno attaccando, muori troia Signore non c'è bisogno più, ho ripulito la zona 34, ora quale zona devo ripulire? Caporale ripulitemi la zona 10 Il generale ha detto di ripulire le zone 34, 16 e 10 Tenente The Killer hanno chiamato dalla zona 10 e dicono che ci vorrà un po' di tempo perché hanno invaso la zona Ok, morite brutti bastardi perché io vi faccio la pelliccia Ma dove cazzo tiro? Morite, troie Ora inizia il massacro più totale Capobastone aiutami a massacrare questi merdoni che ti hanno disobbedito e hanno messo dislikes i tuoi video Capobastone aiutami a massacrare questi merditi che ti hanno chiamato la zona 10 e 10 Inche video Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.